Bentornati su MyFootballJersy. Vediamo una delle maglie più belle della Serie A di quest'anno. Questa è la terza maglia della Fiorentina in edizione fan. Vi ricordo che l'edizione fan è quella un po' più confortevole. Pensate per i tifosi. Grazie per la visione! La maglia è bellissima. Come ho già detto, secondo me è una delle più belle di questa stagione della Serie A. Bellissimo questo motivo e questo punto di viola. Il costo lo vedete qui sopra come al solito. Che aggiungere? Vi ricordo che include anche le spese di spedizione, ma decidete voi cosa fare. Se volete maggiori dettagli, trovate i riferimenti qua sotto, in descrizione. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link col quale potete ottenere un coupon da 5 dollari. Quindi diventa ancora più conveniente. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Quindi continuate a guardare. Prima però vi chiedo di iscrivervi al canale. Questo ci permette di mostrarvi maglie come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto. Alla prossima! Alla prossima!